ed eccoci qua che siamo partiti di nuovo siamo qua in attesa che arrivino le persone pronti a questa live a tinte italiane come abbiamo fatto la settimana scorsa con Torino che è stata una bellissima live ricca di curiosità abbiamo avuto diversi ospiti molti di voi se la ricorderanno probabilmente per oggi la facciamo in doppia piattaforma quindi ci saranno delle persone che ci seguono da Twitch delle persone che ci seguono da YouTube naturalmente invito tutti gli YouTubisti a ricordarsi che ogni giorno su Twitch sono in diretta dalle 18 questo fine domenica, poi la prossima settimana cambiamo ritmo, ne faremo un po' di meno perché logicamente tutto il mondo entra in fase 2 entriamo in fase 2 anche con Quarantiozzo c'è gente che ci scrive da Tucson, Arizona, sei come Jojo dei Beatles Jojo left his home in Tucson, Arizona e poi abbiamo invece i nostri cari aficionados ormai della della piattaforma streaming più in voga al momento che è appunto Twitch abbiamo Gallettino abbiamo I love long travels ciao Sofia grande oggi sei arrivata con larghissimo anticipo sei arrivata veramente con grande grande anticipo abbiamo il solito Carmine abbiamo questo numero di telefono che ancora non ha un nome come il mitico Andrea carichissimo baldo 999 tutti cardissimi bella stai tutto a posto tutto a postissimo caro Alessandro e allora direi che possiamo iniziare a introdurre un pochettino il tema della live e in particolar modo l'ospite che tra poco vado a presentarvi perché ovviamente così come a Torino si è parlato di Torino con due ospiti che ci hanno raccontato un po' di aneddoti interessanti per quel che riguarda non so se vi ricordate la storia della chiesa della consolata la storia della placca d'argento della sindone e tutte queste cose molto molto interessanti intanto ciao grazia ciao Marco ciao Luca ciao Enrico eccetera eccetera c'è qualcosa qualcuno aveva detto qualcosa del genere aspetta aspetta mi sono perso c'era un commento simpatico che mi è sfuggito porca miseria e allora abbiamo una tiziana 87 che tizio 87 suppongo sia tiziana non lo so che vive a Firenze anche oggi non potevi mancare io aspetto ovviamente il Giacomo in perché il Giacomo è sicuramente un grande fiorentinista oltransista eccolo qua vai grande ti ci sei super presente e allora ragazzi direi che siamo già abbastanza qua in questa diretta di cosa parliamo oggi parliamo appunto di Firenze perché Firenze Firenze innanzitutto è una delle città più belle d'Italia per tanto tempo io l'ho considerata anche la più bella in assoluto sicuramente ero di parte perché la mia famiglia come sapete per metà di madre è Toscana proveniamo dal confine della del confine con l'Umbria come avrete sicuramente sentito dall'accento di mia nonna nella live speciale del 25 aprile però una buona parte di essa sei poi trasferita proprio a Firenze diciamo vicino a Scandigi zona Pontagreve che è una zona che ovviamente io ho frequentato per motivi di famiglia svariate decine di volte nel corso della mia vita ovviamente poi da Pontagreve prendevo la tramvia e andavo verso il centro città e immaginate con gli occhi di un bambino non c'era ancora la tramvia quando ero un bambino però quando ero un po' più grandicello arrivò questa cosa che per noi torinesi è normale il tram praticamente fa parte della città ma per i fiorentini la tramvia l'è una roba non si è mai vista e quindi scoprivo delle meraviglie che io stesso non conoscevo e quindi la bellezza di questa città mi ha letteralmente stregato ha poi un valore storico fondamentale abbiamo detto l'altra volta Torino è stata la prima capitale d'Italia Firenze è stata la seconda prima che poi si stabilisse definitivamente a Roma ma non solo probabilmente ancora oggi la potremmo definire la capitale culturale d'Italia e della sua storia perché se noi guardiamo nel lungo periodo la storia d'Italia gran parte delle cose che il mondo ci invidia o dei periodi storici che il mondo ci invidia sono ruotati in gran modo intorno alla Toscana e soprattutto a Firenze non a caso il nostro poeta più famoso è un poeta fiorentino i nostri pittori scultori più famosi sono artisti magari non fiorentini direttamente ma che hanno ruotato intorno a Firenze per logiche questioni di potere capitale del rinascimento e non solo detto questo abbiamo il piacere di invitarvi un altro fiorentino illustre dei giorni d'oggi magari non sarà come Leonardo non sarà come Raffaello che non era fiorentino Leonardo però come i grandi artisti rinascimentali o come Dante Lighieri però oggi nei social e specialmente su Instagram è una persona che racconta le bellezze e le storie della società in maniera veramente unica e sono contento che possa farlo qui con voi per voi altri e ladies and gentlemen round of applause per Vicky Pedro grande Vicky saluto la curva saluto la curva hai detto la tramvia volevo uscire dall'applicazione e scappare vediamo se si riprende il 27 prendevi da Ponta Greve ma perché poi la tramvia l'hanno fatta poi dopo quando c'era quando ero piccolo io ho visto crescere quel cantiere della tramvia non c'era sempre perché per voi praticamente è come per noi la metropolitana hanno iniziato quando facevi la prima cognola a fare la tramvia sì 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 infatti è finita che avrà avuto 18 anni possibile hai fatto il diciottesimo che entrano via mi ricordo il diciottesimo resistenza la fermata resistenza tra l'altro qualcuno qualcuno sta dicendo le mie cuffie sono un omaggio al viaggio in Nepal perché ricordano effettivamente i totem dei cavi intrecciati dell'Asia dobbiamo dobbiamo comprarci quelle da professionisti senza fili ma quelle che sì ma questi troiai che in realtà ce li ho perché sono buone mi piace sentire dire troiai ma devi capire che io sono cittadino del mondo però alla fine il sangue è quello lì io le vacanze le ho passate spesso in Toscana anche se è zona Livorno quindi Cessina poi ogni grande ogni grande viaggiatore ha sempre comunque un punto di riferimento da dove partire si parte sempre da qualcosa per muovere il mondo è il mio punto di partenza è esattamente quello che abbiamo qui nello sfondo dietro adesso ci sono le nostre facce che lo coprono sono il piazzale Michelangelo il piazzale Michelangelo è stato forse il mio primo grande amore come mi ricordo la prima volta sono andato in questo piazzale e ho detto porca miseria ma che spettacolo e allora poi iniziamo ad appassionarmi un po' su tutte le storie cioè del fatto che fin da tempi antichi il centro di Firenze non poteva avere case più alte di cinque piani perché così potevano svettare meglio le copole di Santa Maria del Fiore il Palazzo Vecchio Santa Croce e quant'altro ma allora non sono io che devo raccontare le storie della tua città no? più che altro tutte queste cose che stai dicendo sono andate poi distrutte e scomparsi con Firenze Capitale d'Italia te prima quando facevi la intro hai nominato Firenze Capitale ma ci sono delle belle storie lì dietro per esempio i fiorentini non volevano che Firenze diventasse capitale cioè non gliene fregava veramente niente gli distrussero per parte di aprire com'è il fiorentino gli distrussero tutto il centro gli distrussero le mura arrivarono più di 30.000 persone a Firenze considerati praticamente stranieri quindi i fiorentini eravamo di fatto erano tutti piemontesi praticamente capito i fiorentini non gliene interessava non gliene interessava praticamente niente di Firenze Capitale quando poi venne spostata a Roma mala grande mala grandissima è stata pochissimo capitale quanto è stata poca roba cinque anni però vedi per esempio ti regalo un aneddoto con Firenze capitale d'Italia venne ad abitare qua il grande Camillo Negroni il grande conte Camillo Negroni che inventò il cocktail negroni cocktail negroni che lui andava a bere no davvero lui andava a bere in via di Torra Buoni al bar Casoni prendeva sempre un americano e un giorno gli disse al suo varista di fiducia che non mi ricordo come si chiama ora per l'amor di Dio mi scuso e gli disse me lo modifichi un attimo mi fai qualcosa di diverso e lui gli aggiunse il gin e da lì venne fuori l'americano alla maniera del conte Negroni abbreviato poi per gli amici il Negroni per gli amici il Negroni che poi divenne poi il Negroni sbagliato col passare degli anni ma lì quello è un altro discorso quello poi a Milano e andremo a Milano a ragionare anche del Negroni sbagliato ce ne faremo tre o quattro allora intanto giusto nel caso remoto in cui qualcuno non conoscesse questo signore che sta alla mia di qua lui Vicky Pedro seguitelo su Instagram che è il suo canale diciamo principale il canale di punto e anche YouTube se qualcuno potesse mi fa piacere se qualcuno mette a YouTube mi fa piacere il che è strano perché tu sei famoso sei conosciuto per i video non per le foto Instagram un social da foto diciamo però tu fai questi video di tre minuti quattro minuti massimo forse YouTube ti penalizza un po' perché vuole video lunghi vuole la gente pallosa come me che fa i pipponi lunghi mentre le cose le pilloline di cultura come fai tu magari non sono non sono così apprezzate dall'algoritmo vai a sapere comunque hai un canale YouTube che deve crescere quindi seguitelo su YouTube sì e invece tu Instagram è molto molto popolare molto conosciuto e racconta con questi video di tre minuti spesso e volentieri le storie più pazzesche che più delle volte ritornano intorno a Firenze o comunque alla Toscana alla Toscana sì sì poi piano piano mi sono un po' allargato perché comunque sono innamoratissimo della mia città ma anche della mia regione ho una voglia veramente di tornare a girare per la Toscana non puoi aprire e sì YouTube fondamentalmente perché l'ho anche aperto come ultimo sono partito da Facebook quindi ho la community più grande ce l'ho lì su Facebook poi Instagram comunque è un social molto giovane molto molto veloce molto semplice io ho voluto sempre improntare i miei video nella velocità e nell'immediatezza cioè ma perché io non faccio video di 10 minuti perché sarei io il primo a non guardarli capito? difficile che io mi veda un video che duri più di 5 minuti è veramente difficile veramente veramente difficile ecco perché io ho sempre voluto dare un'impronta molto rapida cioè se te mi devi ascoltare che parlo di piazza e la signoria te lo immagini che due palle che ti fai se il video non è veloce non è rapido non è simpatico e quindi non lo guarderai mai soprattutto se a parlarti è un ragazzo normale non Alberto Angela perché se Alberto Angela o chi per lui o una guida o un professore gente che ne sa allora magari te la guardi anche però da uno scappato di casa come me dici ma questo che dice invece se dura 3 minuti e il video è veloce allora me lo guardo anche capito? certo tra l'altro la cosa bella è che tu dici queste cose a uno che recentemente ha pubblicato un video di 25 minuti sulla storia dell'inno russo cioè te lo immagini io ti avrei ucciso ti avrei io ho detto ma questo cosa l'ho ammazzo gli mando una denuncia gli mando è andato bene è piaciuto è piaciuto è andato forte l'inno russo bene sì allora dunque dunque abbiamo intanto c'è gente che ti fa un sacco di domande no già perché vorrebbero già si risponde si risponde non so se tu li vedi i commenti no purtroppo no devo andare non lo so live comment forse ah è così li vedo però poi non vedo più te se vedo i commenti ah perché sei dal telefono ho capito quindi sì perdonami ci dicono ma guardiamo sono differenze anche dei dintorni tipo il castello di San Mezzano il castello di San Mezzano è un fortino inaccessibile è uno di quei posti dove mi piacerebbe veramente poter andare ma poter dare anche il mio contributo perché è un castello meraviglioso che ha un'architettura una decorazione all'interno uniche che però è stato completamente abbandonato quindi mi piacerebbe poter dare un piccolo contributo a farlo tornare al vecchio splendore però devo trovare un aggancio che mi permetta di accedervi ecco fondamentalmente però il castello di San Mezzano è sicuramente uno dei posti dove mi piacerebbe andare sicuramente magari chi lo sa un domani ma diciamo così per quanto ovviamente sia una domanda difficilissima da farti io credo però è un po' come quando a me chiedono qual è il tuo viaggio preferito però quali sono le storie di Firenze a cui sei particolarmente legato e mentre tu magari ci pensi io faccio una cosa bellissima ti scrivi tutti i commenti su un foglio e me li fai leggere no no a parte che li posso mettere in evidenza però io in realtà vorrei dare così due immagini al volo di questo illegalissime fatte col drone e vanno un po' scatti perché è così con lo stream però via questo è il duomo di Firenze le storie sono tantissime ora vedendo la cupola a parte il fatto mi viene da piangere ma poi pensiamo a a Brunelleschi il genio del primo rinascimento visto sei stato telepatico te l'hanno chiesto e tu l'hai subito le vado le vado che in realtà lui glielo bocciarono il primo progetto della cupola lui gli disse guarda ma te sei un pazzo ma te cosa credi di fare qui si muore tutti cioè nessuno credeva in Brunelleschi e nel suo sogno impossibile capito e lui dopo dopo avergli fatto il trucchetto dell'uovo schiacciandogli l'uovo su un tavolo convinse la diciamo i membri dell'arte della lana che erano quelli che finanziavano il progetto a dargli via libera ma con la supervisione di Lorenzo Ghiberti che era diciamo l'artigiano del momento e gli dissero guarda noi diamo della Brunelleschi però te guarda un po' lui come lavora e i due non si potevano vedere non si potevano vedere Brunelleschi allora una volta cosa fece a metà lavori per levarselo di torno si finse malato e disse a Ghiberti vai dai continua te nel frattempo che io sono qui a letto Ghiberti non andò avanti nemmeno di una mattonella qui appunto la gente quelli dell'artigiano si convinsero a togliere di mezzo Ghiberti e Brunelleschi potrebbe continuare il suo progetto da solo si è finto malato si è finto malato allora voi capite queste cose poi ce le riporta Vasari cioè Vasari è stato veramente un grande perché Vasari con il suo libro Le Vite ci ha riportato tutti questi aneddoti io non sarei qui adesso con te se Giorgione Vasari non avesse scritto il primo libro di storia dell'arte del mondo quello è stato il primo libro se non ci fosse stato Vasari noi sapremmo meno della metà della metà delle cose che sappiamo oggi nella fuga dai fuoco a casa se li casca tutto sì capito allora aspetta cos'è c'era qua ci sono tantissimi commenti che stanno andando io a forza di ascoltare te non li sto seguendo un gran che vi chiedo scusa ragazzi comunque allora voi capite no già solo con questo spunto che vi ha dato Vicky Pedro Pedro perché Vicky è un cane che porta spazio a Papi questo questo spunto che ha detto Pedro capite perché vale la pena seguire i suoi video perché voi mentre siete lì un video breve vi racconto tutte queste cose con una fuga una passione un'ansia su tutta città perché ci sento e poi tu li fai con lo smartphone immagino in mezzo alla città con tutti i turisti che ti guardano poi immaginario infatti dicono a Giacomo Antonini se non ci fosse stato Vasari l'arte toscana non sarebbe così celebrata adesso no io non sono non sono d'accordo con Giacomo nel senso sarebbe stata celebrata lo stesso avremmo saputo molte meno cose esempio tenete in un'altra qual è l'unica allora sappiamo che Michelangelo è uno scultore giusto? ma qual è stato l'unico dipinto realizzato da Michelangelo dipinto su tela il Tondodoni il Tondodoni è un Maria che si gira prendendo il bambino e Giuseppe che glielo passa un quadro meraviglioso che ha ancora la sua cornice originale che lui fece per per Agnolo Doni per le nozze con Maddalena Strozzi di cui il nome Tondodoni perché poi i tempi prendevano le opere prendevano il nome del committente bravissimo fino a qui una storina storina basica se non che nel momento in cui il dipinto era finito Michelangelo lo spedì al signor Doni erano rimasti d'accordo per una cifra di 70 ducati e il signor Doni gli si ha al fattorino che gli aveva portato guarda 70 sono troppi ti do 40 e gli disse a Michelangelo guarda lui si ha dato 40 40 mi ha dato questo è il Tondodoni nel frattempo questo è il Tondodoni ora se lo vuole mi deve dare il doppio 140 vediamo se fai il furbo un'altra volta da Doni e gli disse se lo vuoi ora sono 140 ducati e Agnolo Doni voleva fare il furbo e lo prese in quel posto spendendo il doppio rispetto a quello che avevano pattuito all'inizio quindi avremmo celebrato lo stesso quest'opera ma sicuramente non avremmo saputo questo risvolto che comunque è un risvolto simpatico perché queste curiosità ti fanno sentire questi artisti più umani capito? esatto ti fanno sentire più come noi cioè erano come noi fondamentalmente è un po' come anche gli aneddoti sui personaggi storici che tu li vedi sui che ne so il conte di Cavour lo leggi sui manuali di storia perché era il ministro quello che è e tu si Cavour tu lo immagini come sai quel personaggio con la barba gli occhialini così e poi magari scopri che c'aveva una serie di vizi che era un appassionato investitore che aveva tutte queste storie qua e quindi è la bellezza perché a volte sono persone alla fine no? tutte queste idealizziamo un po' questi personaggi ed è giusto perché sono stati fuori dal comune e sono stati dei fenomeni incredibili però erano anche loro persone con le loro debolezze con le loro non si definiva un pittore qua c'è la pittura penso sia la sua da dove nasceva la grande rivalità tra Michelangelo e Leonardo da Vinci i due non si sopportavano nemmeno tu hai fatto un bellissimo video su questo forse stai che è stato il video in cui ti ho conosciuto il video sulla rivalità tra Michelangelo e Leonardo perché Michelangelo sosteneva che la vera arte la vera espressione dell'arte fosse una scultura e l'altro la pittura e già su questo si prendevano ti basti pensare che quando venne inaugurato il Davide di Michelangelo Leonardo lo voleva mettere escluso da tutto lo dice ma dove lo mettiamo dove la mettiamo quest'opera mettiamolo laggiù alla loggia dei Lanzi che almeno è coperta te ne rendi conto e la gente disse cioè prezza per l'invidia perché la loggia dei Lanzi per chi non lo sapesse è quella specie di porticato aperto su due lati che sta di fronte a Palazzo Vecchio in Piazza della Signoria dove ci sono delle sculture più belle al mondo probabilmente e poi davanti c'è la copia se non sbaglio del David perché l'originale adesso è all'Accademia e quindi insomma continua e quindi pensa dall'invidia che Leonardo provava per Michelangelo disse mettiamolo laggiù che a me non lo vede nessuno e la signoria disse no ma come un'opera così bella mai vista una stata del genere va messa al centro dell'attenzione del popolo capito quindi questa è la loggia dei Lanzi questa è la loggia dei Lanzi meravigliosa dove ci perché Lanzi perché ci stavano i Lanzi che necchi che erano l'esercito di Cosimo I il Gran Duca poi dopo è diventa è un museo a cielo aperto la cosa più bella della loggia dei Lanzi è che ti sembra di camminare in mezzo a giganti cioè te cammini in mezzo a queste opere è una cosa fantastica però se noi prendiamo un tour virtuale in base a quello che abbiamo detto tu hai parlato di Vasari abbiamo parlato di loggio dei Lanzi che sta proprio sotto Palazzo Vecchio se noi da Palazzo Vecchio prendiamo un corridoio che porta il nome proprio di Vasari arriviamo teoricamente arriveremo fino a Palazzo Pitti che sta dall'altra parte dell'Arno passando sopra il ponte più famoso di Firenze che è il Ponte Vecchio allora tu quando avevamo il telefono l'altro giorno mentre organizzavamo questa diretta siccome era era il 25 aprile comunque dopo fare la diretta con mia nonna si parlava dei ricordi di guerra abbiamo accennato il fatto che il Ponte Vecchio è uno dei pochi ponti forse l'unico ponte fiorentino risparmiato dai nazisti no? L'unico sì sì e allora si accennava e tu mi dicesti il telefono però la vera storia sarebbe un'altra ma non te la dico adesso te la dico in diretta e a questo punto siamo tutti curiosi qual è la vera storia del perché il Ponte Vecchio e il Corridore Vasariano sono rimasti intatti allora uccidiamo subito il romanticismo uccidiamolo subito allora distruggere Ponte Vecchio era inutile fondamentalmente perché ad agosto durante la guerra il livello dell'armio era molto basso e le macerie di Ponte Vecchio avrebbero permesso lo stesso il passaggio quindi era fondamentalmente inutile distruggere Ponte Vecchio quindi già questo è la fine del romanticismo però c'è dentro perché la vera storia dice che fu il signor Wolf quello di Pulp Fiction Herbie Hathaway è lui quello che risolve i problemi disse in un momento di Firenze i più importanti vanno preservati in realtà la vera storia è un'altra ragazzi tagliamo testa e toro sappiamo benissimo tutti che su Ponte Vecchio ci sono le oriferie i gioiellieri prima c'erano i macellai lo sapevi vero che prima c'erano i macellai allora erano tutti dentro erano tutti dentro e un vecchio orafo un certo Burgassi soprannominato il Burgasso era un vecchio malandato un vecchio che non stava né tanto bene nei saluti quindi i tedeschi dissero vabbè ma lui poveraccio è un vecchio lasciamolo libero lasciamolo per strada non ci fa niente durante il posizionamento delle mine sotto i ponti Burgasso si nascose e vide il punto esatto dove vennero posizionate le bombe la notte del 4 agosto del 44 uscì di casa di notte e staccò le mine tagliò i fili delle mine di Ponte Vecchio e Ponte Vecchio si salvò ah questa non la sapevo questa è la vera storia ma lui sapeva cioè giusto perché sai perché ovviamente tu richiami queste immagini vengono subito in mente i film d'azione dove tu devi tagliare il filo giusto se no scoppia tutto lì era più semplice forse sapeva che tagliando un filo perché loro le facevano saltare con con le cose di Willy Coyote come facevano saltare non so con cosa però ora ora che filo doveva tagliare mi chiedi troppo però insomma si sa tra di noi di Fiorentini che o comunque ci piace pensare che sia così e io la domanda il motivo per cui ti ho fatto la domanda è lui sapeva di rischiare la vita nel fare questo oppure andava colpo sicuro ma sarebbe morto volentieri tanto era un vecchio malandato per salvare la società sarebbe sicuramente morto ma volentieri sarebbe morto volentieri e io feci durante il video che feci fu il primo video di Vicky Pedro io feci come un appello al sindaco mi piacerebbe rifare anche adesso non magari in questo periodo perché non parlo sempre per la serie romanticismo ma mettiamola una bella targa di Burgas il Ponte Vecchio c'è la targa del signor Wolf mettiamo anche la targa di Burgas cioè rendiamola pubblica rendiamola accessibile a tutti questa storia perché comunque ci fa star bene io preferisco che il Ponte Vecchio sia stato anche se non è vero preferisco che il Ponte Vecchio sia stato salvato da uno dei miei concittadini e da un tedesco se permetti questo tra l'altro anche perché qua ti rimballo il commento di Giacomo non la sapevo neppure io in quel neppure io tu non lo conosci questo ragazzo ma io ho avuto la fortuna di farci un viaggio insieme lui è un oltransista fiorentino come gran parte dei fiorentini nel senso diciamo che eravamo in Lappogno diciamo ma quindi sicché Rovaniemi è in provincia di Firenze giusto quello è il concetto se lo saluto allora e quindi cos'è che stavamo dicendo adesso ho perso il filo comunque di Ponte Vecchio stavamo dicendo di Ponte Vecchio orgoglio fiorentino l'abbiamo salvato sì ecco comunque è una cosa di cui che io sono sempre ammirato di dire la verità il modo in cui i fiorentini sono davvero tanto orgogliosi della propria città non si vede per esempio la stessa cosa in altre grandi città italiane che magari possono avere anche più cose però i cittadini hanno una sorta di rapporto di amore e odio verso la propria città a Firenze mi sembra che questo sia un po' più spostato verso l'amore o sbaglio sì e no sì e no ti spiego allora un grande problema che c'è in questo momento è che i fiorentini sono andati via dal centro è difficile che un fiorentino in questo momento abiti in centro storico e quindi da qui si vede l'amore non totale tutti i fiorentini amano la sua città però la criticano anche molto e questo insomma il fatto che è la dimostrazione che pochissimi fiorentini adesso vivono in centro è una dimostrazione io spero dopo la fine di questa pandemia che un po' i fiorentini si riedano e che rinizino a vivere un po' in il centro perché è stato un po' troppo è difficile da vivere per un discorso anche di viabilità di comodità credo sì certo quindi comunque sì l'amore però per la propria città è una cosa veramente molto toscana in toscana si sentono molto le rivalità non so se si sentono anche nelle altre regioni ma qui non come in toscana qui sentono tantissimo noi le mura io lo dico sempre noi le mura ce l'abbiamo nel cervello e io ti garantisco che un senese un pisano sono molto più attaccati di Firenze nella città io ho vissuto a Siena e te non puoi aprire i senesi no no i senesi sì 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 assolutamente i senesi ti rifacciano ancora la battaglia di Montaperti nel 1200 sì 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 i senesi a Firenze fanno la fanno la rievocazione ogni anno di quella battaglia a Siena se non sbaglio loro per venire a Siena per loro è come per me andare a Lavana praticamente cioè di farvi essere uno non puoi capire che viaggio è per loro quindi sì il fiorentino però Giuseppe Poggi quando nel 1865 ha buttato giù le mura un po' a noi nel cervello ce l'ha buttata le mura un pochino più di apertura mentale ce l'abbiamo leggermente di più rispetto a un senese per dirti con tutto il rispetto perché Siena è meravigliosa però la poca apertura mentale te lo dimostra il fatto anche che se un ragazzo viene a studiare a Firenze da fuori regione è molto difficile che faccia amicizie fiorentine difficilissimo e io ho conosciuto tanti questo è vero questo è ticola verità io l'ho vissuto dalla mia infanzia perché quando io facevo appunto le vacanze ti dicevo vicino a Cecina più o meno e lì c'erano dei ragazzi che venivano da Pistoia da Lucca da Livorno da Firenze così e a parte che tra di loro mi rendevo conto che pur essendo dei bambini un bambino che te ne frega devi giocare a calcio e basta non devi fare nient'altro da bambini non erano contenti se li mettevi in squadra con quello di Pistoia quello di Firenze Pistoia e Prato principalmente figuriamoci Pisa e Livorno quello che è ma poi io che arrivavo dal nord ero il torinese ero praticamente una mosca bianca una specie di reietto della società nel senso che sì servivo a fare numero ogni tanto ma poi da quelle vacanze però ti mandavano un porta insomma ecco per farsi esattamente andava esattamente in questa maniera questo è un grosso problema è rimasta questa rivalità dal medioevo e solo a voi è rimasta sì sì ma non è tanto rivalità tanto che ci vuole ci vuole un pochino più di apertura mentale io spero che le prossime già dalla mia generazione ma anche le prossime stosa vada ad abbattersi però chiaramente purtroppo è brutto da dire ma è vero abbiamo un po' la puzza sotto il naso purtroppo abbiamo un po' la puzza sotto il naso e ti prendo esempio io ho frequentato per un periodo una ragazza di Bologna che studiava al Polimoda e lei era tre anni che era a Firenze una ragazza appostissima carina gentile una ragazza tranquillissima e lei in tre anni non aveva non aveva una mia fiorentina non era riuscita a farsi una mia fiorentina perché entrare nel gruppo è veramente difficile ma è difficile anche tra noi fiorentini se io ho una compagnia di 4-5 amici no ma te lo giuro guarda veramente Stefano se io ho una compagnia di 4-5 amici boh di Via L'Europa e conosco un amico dell'isolotto portarlo in quel gruppo è difficile è difficile davvero ti garantisco che è difficile poi ce lo porto ma deve essere accettato da tutti prima di entrare meccanismi tribali delle compagnie di amici se immaginati una ragazza di un'altra città te immaginati una ragazza di un altro paese te immaginati una spagnola una francese cioè è veramente incredibile se nesi che si sposa con un fiorentino sì a volte succede poi c'è anche le persone intelligenti che queste barriere le abbattono completamente beh chiaro ovviamente però ti garantisco che non è facile perché abbiamo un pochino la cusa sotto il naso è vero purtroppo e questo però diciamo fa parte un po' del carattere della città c'è il sì è il bello e il brutto sono molto campanilisti però vi dico la vita lo trovo anche affascinante da un certo punto di vista c'ha i suoi c'ha i suoi lati sicuramente belli e affascinanti e come tutte le cose c'ha un po' i suoi risvolti negativi e allora ti chiedono ma com'è nata la rivalità con i pisani vuoi tra quella tra Firenze e Pisa e tra Pisa e Livorno che peraltro è una rivalità che se non sbaglio è anche all'origine della caratteristica principale del pane toscano e allora parliamo di quei bucaioli dei pisani che c'avevano il porto c'avevano il porto erano bellini c'avevano il porto e facevano arrivare il sale chiaramente facevano arrivare il sale e il sale prima era importante prima il sale era veramente un elemento importante e quando ci alzarono la tassa sul sale per via delle guerre noi per non dargli soddisfazione si disse va bene basta il sale non si mette più in il pane e da quel momento si inizia a fare il pane sciocco e il pane sciocco è ancora la nostra caratteristica ed è buonissimo fammelo dire io amo il nostro pane anche io sono cresciuto col pane sciocco mia mamma fa sempre la panzanella ora che arriva l'estate buona buona di orizio la panzanella quindi io amo veramente il nostro pane toscano e chiaramente le guerre le rivalità sono sempre scusami poi ti lascio andare sulle riverità però la storia del pane chi ha studiato la divina commedia c'è un verso bellissimo dove Dante nell'inferno incontra non mi ricordo esattamente chi forse Farinetta degli Uberti o chi per lui che gli fa la profezia del suo esilio da Firenze dicendogli tu scoprirai come sa di sale il pane altrui bellissimo per dirgli tu uscirai da Firenze e ti renderai di conto cosa vuol dire mangiare il pane con il sale cioè pensa a te non è che gli ha detto gli ha detto del pane non è che gli ha detto vai in un'altra città e andrai a vedere no gli ha detto del pane pazzesco quindi noi siamo veramente molto attaccati forse era Ciacco può darsi questa di Dante non me la ricordo però liceo classico è stato del sesto canto dice però il liceo classico è stato tanti anni fa ormai quasi vent'anni superato l'abbiamo superato quindi diciamo la rivalità con Pisa si la rivalità con Pisa e sono sempre rivalità come con i senesi sono sempre rivalità dalle guerre nel mezzo nel mezzo alle due città c'erano grandi tutti questi paesini e sono stati sempre oggetto di lotta no come con Siena San Gimignano insomma tutte le guerre con Siena con Pisa e chiaramente poi da lì la rivalità aumenta e poi questa rivalità dopo te la porti dietro capito è normale ci sta visto che comunque queste dirette che sto facendo su città italiane sono anche volte a scoprire degli aspetti non conosciuti magari del nostro paese tutti sappiamo che oggi l'elemento culturale l'unico elemento che forse unisce realmente gli italiani è il calcio l'inno nazionale si canta solamente o quando ci sono le guerre o quando c'è il calcio in qualche modo però anche qua Firenze c'ha la sua da raccontare e c'è una domanda specifica sul calcio storico fiorentino su Piazza Santa Croce che succede che cosa è il calcio storico così mi fai male così mi fai male così mi colpisci così mi colpisci al cuore 1530 no prima 1519 mi sembra Firenze è assediata da Carlo V perché i medici vogliono rientrare in città ok Firenze è assediata la gente muore di fame ok cioè la gente sta malissimo stanno i medici vogliono rientrare in città e vogliono riprendere il potere i fiorentini si ribellano e in segno di per sbeffeggiare le truppe per prenderle in giro per anche in questo caso non dare soddisfazione scesero in Piazza Santa Croce si misero 22 contro 22 bianchi contro verdi e fecero una partita a pallone si picchiarono se le dettero a a a a a quello dio specifichiamo che il calcio come lo conosciamo oggi non era ancora nato in quel momento perché venne inventato più avanti sì sì ma si giocava e si continua a giocare e si continua a giocare con le mani quindi magari con il calcio di oggi c'entra poco è più diciamo più rugby se così si può dire diciamo tra l'altro mentre tu parli io da bravo media esperto tiro fuori un e da quel momento vedi da quel momento nacque il nacque il calcio storico che prima pensa una curiosità prima era giocato da persone facoltose da persone colte da persone ricche si dice che anche Leonardo da Vinci e Lorenzo e Magnifico giocavano a calcio fiorendino e se le davano e se le davano a quello dio e oggi ancora oggi è veramente un evento è un evento super per Firenze la differenza con magari il palio di Siena è che noi il calcio storico lo viviamo solo nei giorni che precedono le partite invece il palio di Siena per esempio è vissuto tutto l'anno incontrata ci sarà tutto l'anno il calcio storico noi lo viviamo quei 10-20 giorni l'anno però lo viviamo molto intensamente e siamo molto orgogliosi e infatti nel primo video che farò un po' di ripresa della città voglio fare riferimento agli occhi del calciante Rocky diceva agli occhi della tigre ecco perché lui non ha mai visto Stallone non ha mai visto un calciante negli occhi un minuto prima di inizi la partita quelli sono gli occhi che ci servono in questo momento per superare per superare questa situazione che stiamo vivendo oggi dovremmo essere tutti calcianti in questo momento la grinta la grinta la rabbia e la voglia e sì il calcio storico è veramente una tradizione importante sì per noi 92 minuti di applausi come fantozzi esatto allora un po' di grinta un po' di cuore ti chiedono se sai la storia del gallo nero la storia la storia del gallo nero l'avevo sentita però purtroppo qui devo 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 declinare perché purtroppo non la so bene l'avevo letta anche lì c'è di mezzo la guerra tra Firenze e Siena però non me la ricordo bene quindi prima di sparare grossi fuochi d'artificio mi tiro indietro e faccio un atto di umiltà perché non la so senti un po' dimmi la verità ci hai giocato ad Assassin's Creed 2 no io non ci gioco alla PlayStation no io non ci gioco io non ci gioco mi fa piacere che sia ambientato a San Gimignano a Firenze stessa proprio anche Firenze mi ricordo un gioco che è uscito tantissimi anni fa poi per tantissimi anni non ho mai più toccato una PlayStation però uno degli ultimi a cui avevo giocato era quello mi ricordo c'era sto personaggio che girava per Firenze bellissimo in mezzo alle torri anche Venezia se non sbaglio giù di là ma allora dimmi un po' qual è il così anche lì altra domanda difficile penso prima ti ho chiesto delle storie che preferisci forse però abbiamo poi divagato c'è qualche altra storia che hai in mente ce n'è ce n'è tante guarda proprio magari legata a Lorenzo in Magnifico prima ti ho parlato della cupola di Lorenzo in Magnifico che è stato veramente un personaggio importante della famiglia Medici che durante la congiura dei pazzi lui rischiò veramente di morire capito rischiò di morire perché era stato organizzato questo attentato da anni suoi e del fratello Giuliano e chiaramente la congiura era stata organizzata in modo tale da ovviamente ucciderli ma da scegliere appositamente i killer per ognuno delle vittime e per Giuliano era stato scelto Francesco De Pazzi e Bernardo Bandini per Lorenzo che era la vera era il vero obiettivo della congiura andavano ammazzati tutti e due ma Lorenzo era il vero obiettivo perché era lui il signore di Firenze venne ho scelto un killer apposta Giovanni Di Battista di Montesecco era proprio un killer cioè lui era proprio lo faceva proprio di lavoro da ammazzare un sicario via cioè un sicario cioè lui proprio con lui andiamo sul sicuro quando andò a conoscerlo perché lui vuole andare a conoscerlo prima perché la voleva conoscere prima la sua vittima rimase affascinato da questa figura da quest'uomo se ne innamorò se ne innamorò quasi capito rimase abbagliato da quest'uomo mantenne comunque il suo impegno con il papa e con la famiglia Pazzi di ucciderlo ma il giorno stesso si tirò indietro e disse no io non ce la faccio a Marzellano a quel punto all'ultimo vennero scelti i due sacerdoti che chiaramente non sapevano ammazzare bene le persone non era il loro lavoro e Lorenzo è stato strano Lorenzo riuscì a scappare riuscì a salvarsi pensa se Montesecco avesse mantenuto gli impegni quanto sarebbe cambiata la storia di Firenze le sliding doors è incredibile è incredibile ma guarda sono un sacco di storie di questo tipo in giro per il mondo che fanno sì che poi persone come te o anche come me nel mio piccolo si appassionino tanto alla storia a me queste cose mi fanno veramente impazzire io ho iniziato proprio dalle curiosità a fare i miei video perché erano le cose che mi piacevano a me poi ora mi piacerebbe approfondire di più e magari parlare meno di curiosità perché chiaramente poi finiscono ovviamente e ci sono anche curiosità che magari non sono molto interessanti perché porto è la curiosità ma la curiosità deve essere anche interessante quindi in questo momento mi piacerebbe andare un pochino più a fondo negli argomenti però sono partito da quello perché è quello che mi piaceva a me capito? come il corridoio vasariano sono una nondrore grande non ce la faccio più a viaggiare l'ho visitato tanti paesi siamo all'arte antica di Firenze ho pianto davanti alcuni capolavori ti è venuta la cosiddetta sindrome di Stendhal che peraltro venne per la prima volta se non sbaglio a Firenze proprio lui aveva organizzato questo viaggio prende il nome da questo Stendhal lui arrivò in Santa Roce e si sentì male praticamente gli venne da svenire lui organizzò questa città in Italia tra Firenze Roma e Venezia e in questo tour partito da Firenze lui arrivò in Santa Roce si vide la basilica davanti e stava per svenire dalla bellezza quindi da lì sindrome di Stendhal te ne voglio raccontare un'altra a proposito di grandi personaggi questa non la sa quasi nessuno spero che tu la sappia te ma lo sapete perché Di Caprio si chiama Leonardo? beh no immagino che nella mia ignoranza direi che come gran parte degli americani di origine italiana ha preso nomi italiani per uno verrebbe da dire da Leonardo da Vinci si suppone però c'è un aneddoto chiaramente lui erano era incinta sua mamma lui questa volta Leonardo era incinta era incinta sua mamma era incinta di Leo e era in viaggio di nozze a Firenze con il marito si trovavano in visita agli uffizi quando arrivarono davanti all'annunciazione di Leonardo il bambino iniziò a scalciare fortissimo ah dai la mamma chiaramente lì in mezzo nei dolori il babbo il genio della lampada si fermò e disse anche il bambino si è colpito lo chiameremo Leonardo grande cioè erano agli uffizi e chiamarono Leonardo da Vinci per l'annunciazione questo quando l'ha questa è pazzesca questa è bellissima eccezionale mi piace tantissimo poi ho l'amore che ho per DiCaprio vabbè risaputo però peraltro credo che sia uno dei più grandi attori viventi tutti i memi che sono girati sul fatto che non vinceva mai l'Oscar anche se l'avrebbe meritato ampiamente prima di quando l'ha vinto secondo me vabbè comunque al di là di DiCaprio e infatti sì qualcuno ti ha mentre la raccontavi la scriveva quindi sì abbiamo la conferma dalla community che Vichy Pedro è un diceballe ovvio meno male allora allora ma a te cos'è che piace tanto della tua città cioè tu dovessi dire l'ultimo posto di Firenze che vorresti vedere qual è? Ponte Santa Trinita perché da lì si vede il Ponte Vecchio è il mio ponte quello lì quello lì guarda io quello è il mio ponte non me lo toccato è quello subito dopo Ponte Vecchio per chi non lo sapesse è tra ci abbiamo Ponte Vecchio nel mezzo Ponte Alle Grazie alla sinistra e Ponte Santo Trinita alla destra per me è una per via della vista che c'è o per per via della vista il ponte non è che sia nulla di di per sé ma stai scherzando è bellissimo è meraviglioso con le arcate è stupendo ed è disegnato da Michelangelo ed è costruito dall'Ammannati a me piace tantissimo anche solamente a me da morire anche proprio come è fatto il ponte è una risposta insolita se mi consenti perché con tutte le bellezze che ha Firenze è un punto di nicchia come scelta io mi sento a casa io lì mi sento proprio avvolto da tutta la città mi sento nel mezzo capito mi sento nel mezzo poi ho le quattro state le quattro statue all'inizio e alla fine del ponte sì che rappresentano le quattro stagioni e lo sapevi no che durante i bombardamenti la testa di una delle state è andò persa questo non lo sapevo eh non si trovava la testa della primavera non si trovava addirittura si pensava l'avessero presa gli americani allora girava il cartello wanted a giro per le città con la faccia della primavera qualche anno dopo venne fuori che in realtà la trovò un renaiolo scavando nell'arno trovò la testa della primavera e la riportò in comune c'è una storia molto simile su questo non ricordo male c'erano dei ragazzi che finsero di aver trovato nell'arno delle grandi opere d'arte poi si scoprì che erano in realtà dei falsi non mi ricordo i dettagli però te ti stai sbagliando secondo me con le teste di Modigliani a Livorno eh sì quelle quelle però era Livorno era Livorno erano le teste di Modigliani tra l'altro Modigliani grandissimo grandissimo artista c'era la mostra di Modigliani a Livorno fino a poco tempo fa c'era a ottobre mi sembra molto bella sì anche lì mi piace fare un video sulle teste di Modigliani tra l'altro c'è qualcuno la so già Battistuto o Baggio è ovvio che Battigolo sai Baggio purtroppo è poi se è vestito di bianconero quindi purtroppo quella è una grossa pecca anche se magari non ci voleva una macchia sul curriculum è abbastanza poi è vero che si è messo la sciarpa quando uscì e lì ha rimediato però sempre la maglia bianconera si è messo quindi chiedono parliamo della testa di Michelangelo sulla faccetta di Palazzo Vecchio era chiesto anche qualcuno di prima bella chiedendo la vado definito un easter egg di Palazzo Vecchio il primo selfie forse della storia praticamente dietro il culo di Ercole e Capo Ercole e Capo è quella statua sfigatissima che non si caga mai nessuno che è accanto al David non so se c'è presente soprannominato sacco di poponi per ditti il sacco di poponi il sacco di poponi e il melone in elettorocale e questo c'è un culone immenso dietro il culone di Capo c'è questo profilo di Michelangelo che si dice che lui realizzò di schiena senza nemmeno guardare quando stava passando di lì un suo debitore questo persona gli doveva tanti soldi lo stavano arrestando e gli disse ai vigili del tempo gli disse ma lui quanto ci deve stare lì e lui gli disse tipo una settimana abbia che gli fiorentini si ricordassero più a lungo di costui fermo Michelangelo ma nemmano e tapono prese martello e scalpello pa 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 e gli fece l'autore poi ditti come punizione te dovrai stare sempre sul palazzo vecchio i fiorentini si dovranno ricordare di te per sempre addirittura lui così in una reazione si mette a scolpire la sua faccia e tutti i suoi amici fermo ma nemmano e lui pensa che genio devi essere per improvvisare così dal nulla a parte che vuol dire parliamo di uno che ha scolpito la pietà a scolpire la sua faccia ma com'è la pietà ma com'è la pietà la pietà io guardo la pietà è incredibile io ti parlo anche da un punto di vista diciamo non artistico ma spirituale perché sono molto interessato a questi argomenti chi mi segue lo sa però di fronte a quella quella scultura che ritrae anche un momento importante per i cristiani per tutto che scherzi è una roba veramente al di là della bellezza l'umanità la verità diciamo di quell'opera non so come dire sembra di toccarli no ed è una roba veramente cioè splendida tu pensa immagino di avere la possibilità di incontrare uno di questi personaggi no che era gente che viveva in altri tempi adesso mi ricordo chi è che io ti dico solamente una cosa nel 1500 tante storie su come quelli che su quelli che hanno anche dipinto la per esempio la la cappella la culla del burnelleschi no di quanto tempo stavano lì a passare dedicare tutta la loro vita io ti dico io ti faccio ti lascio pensare che a Firenze tra il 1503 e il 1504 camminavano per il centro di Firenze Leonardo da Vinci Michelangelo e Raffaello uno uno faceva i David uno faceva la Gioconda e quell'altro non faceva nulla però tutte e tre erano a Firenze cioè ma te ne rendi conto è una roba che solo a pensarlo vengono i brividi no sono nati tutti è pazzesco sono nati tutti erano tutti lì in quel momento cosa rappresentava Firenze in quegli anni lì era il centro del mondo era la New York di oggi venivano tutti da noi e venivano tutti da noi tutti da noi venivano venivano a studiare da noi capito venivano a studiare da noi è incredibile oh ma la cupola di Brunelleschi è lì da è lì da è da 600 anni pazzesco ma di che si parla ma ti rendi conto cosa vuol dire ma lo sai in 20 anni di lavori quanti ne è morti a fare la cupola di Brunelleschi lo sai quanti? no quanti uno ah un morto un morto ci fu per costruire la cupola nel 1400 un morto alla faccia della sicurezza sul lavoro senza caschi ma te ne rendi conto che genio era quello lì un morto uno uno solo e di cosa per altre cose per cause non devi sarà scivolato ma te ne rendi conto pensa la grandezza tra l'altro hai citato questi tre geni che vivevano nello stesso periodo a Firenze che sono probabilmente il simbolo dell'Italia nel mondo voglio ricordare a te un aneddoto che abbiamo chi segue le live si ricorda dalla live che abbiamo fatto spiegando perché i russi amano gli italiani sul fatto di come i russi si sono innamorati della musica pop anni 60 70 italiana e che e come in Russia abbia avuto un successo pazzesco un cantante che in Italia non ha avuto praticamente fortuna si chiamava si chiama ancora Robertino Loreti è una storia pazzesca di come è diventato famoso su in Russia ma divenne talmente popolare roba che veramente ai tempi ai tempi Unione Sovietica ovviamente sfondò completamente qualunque tipo di barriera linguistica popolare culturale vendette 10 milioni di copie in Unione Sovietica una roba del genere al punto che quando il presidente italiano Gronchi del tempo andò in visita in Unione Sovietica venne accolto da Khrushchev che lo accolse sono molto contento ufficiale parola ufficiale molto contento di accogliere il presidente di una nazione che ha dato i Natali a Leonardo Michelangelo Raffaello quindi il 1500 di Firenze e Robertino Loreti trova l'intruso il giorno bellissimo una roba veramente eccezionale allora io dico la verità adesso parlare con te mi sta facendo prudere le le dita perché tra l'altro Firenze è l'unica città italiana insieme a Torino che ho avuto la fortuna di far vedere a mia moglie a Torino non gli è piaciuta Firenze è andata matta vabbè perché era estate c'era caldo a Torino d'estate lasciamola perdere se lo smogla il caldo e così mi chiedono che studi hai fatto sei studiato storia dell'arte o sei solo un grande appassionato sono solo appassionato e una passione che mi è nata tardi fondamentalmente io andavo male a scuola ero bravo in storia dell'arte e in storia cioè sentivo che quando lo studiavo qualcosa si muoveva mi piaceva ci mettevo cioè mi arrivava il sentimento perché a me la cosa mi piace di più dell'arte della storia è il cuore cioè quello che ti trasmette quindi sentivo che qualcosa mi si muoveva però rimase tutto molto evanescente poi la grande passione mia è il calcio quando poi dopo ho smesso di giocare ho iniziato a fare questi video per caso così raccontando un po' la mia città perché avevo un appartamento su Airbnb e volevo integrare l'annuncio sul portale con dei video facendo conoscere un po' la città le persone quindi volevo non lo sapevo io avevo l'appartamento e dissi scusami ma come posso sfruttare le massime potenzialità del mio appartamento e della mia città non voglio limitarmi a mettere l'annuncio su booking e Airbnb posso fare di più perché non fare dei video dove fa conoscere la città e magari le persone che guardano Stefano Tiozzi diciamo donna mia guarda canzo lui fa i video affitta anche un appartamento andiamo a dormire da lui allora questo è il mio ragionamento chiaramente pieno ovviamente sparito un attimo ecco tu sei sparito un attimo ma mi hai sentito? questo è stato il mio ragionamento poi fallito March ovviamente perché non è venuto con nessuno a dormire a casa mia però mi divertivo è fallito non è andato bene chiaramente ovviamente pazzesco la prima si fallisce sempre è normale il fallimento è il più grande regalo che l'umanità ci abbia fatto questo è verissimo peraltro perché tra l'altro con combinazioni ieri nella live di ieri parlavamo avevamo ospite i membri del mio gruppo musicale quando ho cercato di diventare una rock star italiana però fallendo miseramente poi da quel fallimento è nato in realtà tutto quello che sto facendo adesso che insomma da tante emozioni a tante persone è la cosa più bella del mondo io ho iniziato a fare video perché sono stato licenziato dal ristorante per lavorare ci stavi mettendo talmente energia che nemmeno la connessione ha retto e questo è vero perché c'hai una carica tu porca ma sarà la quarantena cos'è? no sono un leone in gabbie non ce la faccio più c'è i tic c'ho i tic nervosi non ce la faccio più capito? c'è una proposta dal popolo organizzo una tre giorni fotografica a Firenze con Pedro a farci da Cicerone ragazzi questa sarebbe una cosa fighissima io guarda ho difficoltà certo con te basta in due io non posso fare più di tanti tour perché non sono una guida e ci tengo sempre a chiarirla questa cosa e non vorrei mai vendermi per un qualcosa che non sono quindi io tour il meno possibile non siamo in grado di farli però se noi siamo lì sul ponte Santa Trinita a fare una foto a Ponte Vecchio ad ognuno ad ognuno il suo come mi ha detto uno l'altro giorno c'hai ragione ti chiedono qual è il più grande fiorentino della storia secondo te personaggio magari non il più grande ma quello a cui sei più affezionato a quello a cui sono più affezionato io? diciamo la domanda puoi rispondere un po' come allora io si sottende secondo te perché nessuno penso abbia l'autorità di dire chi sia il più grande credo che il più grande di tutti sia Dante però perché Dante è stato veramente il primo ha dato il là a un po' tutto infatti quando si parla di Dante bisogna andarci veramente piano perché è veramente il padre di tutti noi però sappiamo poco di Dante capito perché si parla di 1200 quindi sappiamo poco di Dante il mio personaggio storico preferito Fiorentino forse è Cosimo Primo dei Medici il primo Gran Dua come mai? è perché a me piacciono i sottovalutati a me piacciono quelli che vengono considerati zero e poi si riscattano gli underdog diciamo sì a me piace quella gente lì e Cosimo Primo salito al potere a 17 anni visto come un pivellino dissero questo lo mettiamo al governo e poi gli facciamo fare quello lo giostriamo come vogliamo noi questo come Conte oggi questo è bravo era un Giuseppe Conte questo ha riunito tutte le tutte le città di Toscana e ha fatto il primo Gran Ducato è stato il primo duca di Firenze il primo re il primo re della Toscana se così si può dire un grandissimo un grandissimo un grandissimo che poi la storia della Toscana di per sé io non sono troppo ferrato infatti ti ascolto con grande piacere però veramente è una storia gigantesca un sacco di vicissitudini che poi sembra strano studiare di una guerra tra Firenze e Siena Firenze e Pisa quello che è però davvero in quegli anni poi si sono si sono creati i presupposti per quello che non solo è stata la storia d'Italia ma è stata la storia di una rinascita culturale mondiale fondamentalmente da rinascimento è partita poi tutta l'epoca moderna ed è partita eh sì a volte sottovalutiamo un aspetto importante che cioè fondamentalmente l'arte serviva anche come propaganda politica capito perché i medici fondamentalmente i medici erano dei campagnoli i medici non avevano nessun titolo mobiliare quali erano le due uniche armi che avevano per poter salire di grado se così si può dire erano due una sposarsi con gente che aveva dei titoli due finanziare l'arte capito perché con l'arte prendevano il l'amore del popolo esempio spicciolo Berlusconi comprava Ronaldinho per farsi per farsi rivotare un'altra volta certo sì oggi Lorenzo il Magnificio faceva fare la primavera dei Botticelli per lo stesso motivo capito tra l'altro ma tu ti riesci a immaginare cosa doveva essere per un un fiorentino del tempo magari che aveva la sua bottega artigianale entrare in piazza in piazza del Duomo e vedersi sta roba enorme che è una roba che ti atterrisce oggi io cerco sempre io cerco sempre di pensare al momento in cui venivano inaugurate le opere ecco ma in quel momento ma la gente ma chi faceva ma non sveniva nel momento in cui levarono il telone al David al oh ma il Perseo di Benvenuto Cellini ma com'è il Perseo di Benvenuto Cellini che tiene in mano che tiene in mano la testa della medusa ma te lo sai che dietro che dietro la testa del Perseo c'è l'autoritratto di Benvenuto Cellini ascoltami non guardare non mettere internet ascoltami ti sto ascoltando ascoltami devi ascoltare c'è la testa del Perseo dietro nella nuca c'è l'autoritratto di Benvenuto Cellini davvero questo non lo sapevo io scrivelo su google autoritratto Benvenuto Cellini ti viene dietro la testa del Perseo allora aspetta autoritratto Cellini Perseo vediamo un po' bravo bravo guarda lo vedi guardalo qua ma pensate che roba vedi quello ma perché ma perché ma perché ma perché perché c'è un motivo perché Cosimo I lo voleva pagare troppo poco rispetto a quello che in realtà l'opera valeva capito mi dice guarda mi do questa cifra qua mi dai questa cifra qua bua maiolo allora sai che mi ci metto la faccia mia dietro capito è pazzesco è impressionante è praticamente fa il paio con la storia di Michelangelo va ah sì allora ah sì allora fa come voglio allora ma quante ne sa Vicky Pedro ragazzi non è che l'ho invitato a caso non è che come prendere il primo biscotto per strada che non sa che fare no che poi che poi fondamentalmente sai cosa è poi poi parlando della passione che io considero un falso amico quando ti rendi conto di saper far qualcosa è lì che ti viene la passione è come è come un po' la fame cioè se te inizi a far qualcosa e dici oh però non sono così male a fare quel qualcosa allora inizi allora inizi e allora lì ti viene la passione non è che per forza ci devi nascere con quella passione se ti dici oh madonna mia però questa tazza son bravo a farla vediamo se ne riesco a farti però diciamo il concetto è se tu ti rendi conto di essere bravo a far qualcosa senza magari averci studiato prima un granché allora ci sei nato con quella passione diciamo nel senso sì ma non è no magari ci sei nato con quel talento lì di saperla raccontare sì sì scusi nascere con un talento e trasformarla in una passione capisco cosa intendo io sono totalmente d'accordo con te quello che dicevo tra l'altro l'altro giorno si parlava proprio di questo in nella diretta domanda e risposta io considero un po' la passione un falso amico perché perché a volte la passione deve rimanere tale e non deve diventare un lavoro perché nel momento in cui diventa un lavoro diventa anche uno stress e non deve diventare uno stress è una passione e deve rimanere passione poi c'è gente che riesce a sposare entrambe le cose passione e lavoro ma ma è difficile bisogna secondo me è importante anche per i ragazzi più giovani che magari hanno indecisioni su cosa fare cosa non fare più che la passione guardiamo quello in cui siamo bravi cosa sappiamo fare quali sono i nostri punti di forza da lì inizio capito da lì da lì mi muovo perché se io ho la passione di sputare le palline così e vado a poi a parti capito cosa so fare so parlare so stare con la gente sono simpatico bene da lì mi muovo capito assolutamente guarda io sfondi una porta che è già spalancata è già spalancata io ci ho scritto un libro su sto concetto il mio libro che ho pubblicato proprio quando è uscita la pandemia parla sì del mio percorso personale ma essenzialmente vuole veicolare esattamente questo concetto cioè non fate l'errore di pensare che Stefano è bravo perché ha seguito la sua passione se segui la tua passione ti scavi la fossa da solo perché nel momento in cui la tua passione può diventare il tuo mestiere allora a questo punto tutti tutte le rotture di balle di un mestiere e quindi la burocrazia perché poi alla fine farlo tutti i giorni sempre no allora poi iniziano ad inquinare la tua passione e finisci con una cosa che amavi poi finirai per odiarla verissimo quello che io dico che è esattamente quello che hai detto tu ma gli aggiungo una sfumatura che sono felicissimo che tu abbia tirato fuori questo argomento tra l'altro e tu hai detto trova quello che siete bravi a fare fondamentale trova quello che si prova a fare e che fa bene agli altri cioè non seguire la tua passione ma segui la tua missione allora a quel punto se le due cose coincidono se tu trasformi la tua passione in una missione cioè dici ok voglio fare quello che mi piace ma lo voglio fare per arricchire gli altri e vedi che riesci in questo che allora quella cosa non ti stancherà mai perché quando aggiungi valore diventi utile e se diventi utile e se risolvi un problema anche a che punto hai fatto bingo cioè o sei un fenomeno dell'intrattenimento ti faccio l'esempio di Luis lui può anche non risolvere il problema a nessuno e aggiungere valore a nessuno quello è un fenomeno quello è un fenomeno è a posto quello è un fenomeno e punto e basta ma noi comuni mortali se aggiungiamo valore abbiamo quel qualcosa in più capito i complimenti dipende un conto è come stai tu con te stesso nel senso a un certo punto magari tu puoi essere un fenomeno se però a un certo punto ti viene la voglia di esplorare qualcosa di diverso io credo sicuramente e poi sei anche chiaramente incentivato dalle persone che ti seguono e che ti vogliono bene c'è l'affetto delle persone che ti dicono guarda grazie perché io tante cose non le sapevo cioè quando una persona ti dice grazie e non ti conosce lì stai vincendo per me non è che stai vincendo per me è quello il senso della vita nel senso grazie se una persona ti ringrazia stamattina guarda ero lì stavo camminando vicino a Piazza Santa Croce si è avvicinato un vecchio ristoratore mi ha fatto molta tenerezza mi ha passato il suo menù del ristorante per dirmi che fai i delivery ho fatto Viti Pedro ciao ti do il mio menù faccio i delivery ti ringrazio mi ha fatto molta tenerezza il ristoratore in questo momento veramente mi piange il cuore mi ha guardato e mi ha fatto grazie per quello che fai mi ha detto grazie per quello che fai cioè non sono è che non sono un dottore che in questo momento sta combattendo il covid-19 faccio i video sui tondodoni di Michelangelo mi ha detto grazie per quello che fai cioè ti viene da piangere in quei momenti no no probabilmente ho anche gli occhi lucidi non so perché vedo un pochettino nebbiato adesso a cui punto sei a posto capito cioè una persona in questo momento in difficoltà vera ma non difficoltà difficoltà economica vera mi dice grazie per quello che fai e allora ma di che sei ragione quello guarda io tutte le persone sai quante email ricevo tipo Stefano mi daresti un consiglio per io dico a tutti la stessa risposta quasi la copio in collo no però ovviamente non la copio in collo dico non cercare quello per cui le persone ti dicono bravo ma quello per cui ti dicono grazie che è quello che hai detto tu cioè è meraviglioso fantastico sei un grande davvero grazie che la tiri fuori che tiri fuori questa roba perché tu non hai idea di quanto fa bene quanto fa bene in questo periodo la cosa bella è che non è combinato quindi non è che l'abbiamo deciso assolutamente infatti sono ti guardo così grande grande sì bellissimo ha letto il libro ho letto la roba ma grande ha letto il libro guarda che il fatto è che sono le ultime pagine del libro dove spingo me lo fai vedere me lo fai vedere la copertina te l'hai portata di mano ma dove lo posso comprare in questo momento vedrai su amazon feltrinelli quello che come si chiama scusami l'anima viaggia un passo alla volta credibile raga ho venduto un libro a vikipedra sì no 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 io guarda ora ho iniziato a leggere molto viaggia un passo alla volta eccolo lì guarda c'è il mio faccione mirato te lo compro in diretta non so se vedi ma te lo compro in diretta grande edizioni terra santa un sogno proprio lui sì 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 proprio lui sì 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 da caponord 20.000 laghi 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 20.000 lagher te lo compro sicuramente grande e niente guarda che c'è da aggiungere su sta roba perché poi sono io che dico grazie a te adesso perché di riflesso tante persone mi hanno scritto in questi giorni grazie per le live che stai facendo perché ci tieni compagnia in un momento difficile sono sempre argomenti interessanti e questo è il motivo per cui le sto facendo alla fine perché di certo non mi viene in tasca nulla nel senso al massimo qui a Twitch qualcuno si sta abbonando magari riesco a ripagarmi il microfono per farmi sentire meglio o a ripagarmi il software di streaming per potervi ospitare e fare delle cose più carine però quindi quello non si fa e tanta gente mi dice grazie e quindi questo grazie oggi lo rimbalzo a te perché è stata una live bellissima veramente eccezionale siamo divertiti e io voglio ci tengo anche a ringraziare il mio amico quello che a volte viene con me a farmi le foto Giacomo Biancalani che è un tuo grandissimo fan e lui mi disse i primi giorni che aprì i canali social lui mi fece diciamo una scrematura di gente che avrei dovuto seguire e mi disse guarda perché lui è un grande fissato youtube cosa che io invece non ero e non sono tuttora ne conosco pochissimi di colleghi tra virgolette e lui mi fece una lista di 10-15 mi disse guarda ti ho iniziato a seguire questo questo e questo ma segui lui Stefano Tiozzi perché questo è veramente bravo seguilo cioè che poi dopo magari poi andrai a vedere questo smetto di seguirlo questo smetto di seguirlo lui non lo smettere mai di seguire perché lui è veramente bravo e infatti quando mi iscrivesti no quando mi iscrivesti ti dissi ma noi non è che ci seguiamo infatti ci seguivamo a vicenda io già ti seguivo a te capito sì tra l'altro perché io gli ho scritto ero convinto di scrivergli dalla mia pagina Instagram ma gli ho scritto dalla pagina di Seva Project e quindi e lui mi fa ma scusa ma tu sei sei questo Stefano vero? sì noi ci seguiamo è un coglione da Seva Project noi ci seguiamo da questo profilo sì 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 infatti io ti seguo tra l'altro ho degli amici fiorentini che spero che siano qua in diretta uno dei più grandi tour operato italiani che ha sede a Firenze e con cui faccio i viaggi in Canada in Nord America l'ho ospitato in una live e io gli mando sempre i tuoi video e adesso chissà se sei collegato oggi mi sono dimenticato di avvisarlo non la puoi vedere indifferita allora ragazzi prima di liberare Pedro se vogliamo fare un paio di domandine così al volo vediamo se lo troviamo ringrazio tutte le persone che hanno scritto commentato insomma ora non riesco a vedere i commenti ma ho dato un'occhiata veloce faccio fatica a leggerli anche io perché sono sono veramente un fiume essendo su due piattaforme insieme oggi quindi abbiamo anche un picco di utenti molto alto rispetto ai giorni scorsi vediamo un po' allora chiedono la famiglia dei Bischeri che probabilmente ha che fare questo è veramente un sogno la parola la parola Bischero è una parola che identifica probabilmente il geletto fiorentino nel mondo no? ma questa è una famiglia che è dovuta scappare da Firenze per la vergogna per la vergogna quando il Duomo di Firenze c'è ancora il canto dei Bischeri il Duomo di Firenze a un certo punto è la vecchia cattedrale di Santa Reparata venne ampliata per fare la nuova cattedrale di Santa Maria del Fiore e per fare anche la cupola e vennero distrutte le case che erano indietro ma per forza vennero distrutte ma chiaramente la signoria disse guardi vi si distrugge la casa ma vi si rende anche soldi per rifarle da capo non c'è problema o i Bischeri erano gli unici che dissero noi non ci spostiamo di qua addirittura addirittura gli venne offerto il doppio di quello che valeva sia la casa che le loro botteghe perché prima da cosa viene il detto usce bottega che la casa era collegata chiaramente alla bottega e i Bischeri avevano tutti i loro possedimenti in quella zona e non si volevano spostare per nessun motivo una notte si incendiò tutto e i Bischeri rimasero senza casa e senza e senza le botteghe senza i negozi gli prese fuoco tutto e persero tutto e chiaramente la signoria a quel punto non era interessata a ripagargli perché si erano si erano ovviamente ribellati all'ampliamento della cattedrale ma l'incendio incendio doloso o eh incendio non si sa comunque fu un caso perché la città venne diciamo no 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 incendio in realtà no non dovrebbe essere fu un caso non venne non venne bruciato da nessuno quindi sì questa storia di Bischeri che vennero cacciati da Firenze si scapparono per la vergogna e tornarono a Firenze con un altro cognome ma però a Firenze anni e anni dopo con un altro cognome capito e quindi da allora per dire per dire un cretino si dice un biscero c'è un biscero capito i lavori non partivano la cattedrale di Santa Maria del Fiore era quella lì non partivano i lavori finché loro si levavano capito che storia ricorda forse sono delle storie simili a Roma intorno alla costruzione della basilica di San Pietro se non ricordo male o forse mi confondo con via della conciliazione che per farla negli anni trenta hanno smantellato tutto il borgo che gli stava stava davanti alla cattedrale di San Pietro mi piacerebbe tra l'altro fare una diretta simili di questo stampo su Roma ma non conosco in questo momento un vichipedro romano se la vuoi se voi conoscere un vichipedro toscano scusami veneziano te lo passo c'è un vichipedro veneziano c'è un vichipedro veneziano fortissimo si chiama Federico Blumer la sua pagina è il viaggio di scoperta e allora ragazzi a questo punto adesso me lo vado a verificare vado a verificare la fonte anche se arriva da vichipedro di sicuro avrà senso ci siamo conosciuti in questa quarantena abbiamo fatto anche noi una live simpaticissima ci siamo promessi di incontrarci appena finisce tutto e scrivili digli che ti ho dato il contatto io e sarai molto felice veramente 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 bravo e allora direi che il prossimo appuntamento per le live a tema Italia è segnato ragazzi si dovrà parlare di Venezia tutti a benessere salutamolo tanto se lo senti salutamolo con piacere tra l'altro ti quotano che stavano per suggerirlo il viaggio non è come me con il nome il viaggio di scoperta il viaggio di scoperta perfetto ce lo segniamo anche voi andate a lavorare qua tra l'altro dicono come per innamorarsi di Ferenze andate sul piazzale e vi innamorerete e qua a questo punto ce l'abbiamo qua come ecco io invece dissento ce l'hai col piazzale anche ce l'hai col piazzale che teno di pellegrini ci ho visto in Radiohead andiamo un po' più su e andiamo a San Miniato oppure al Forte Belvedere posto ideale per l'amante chiunque abbia l'amante si segna questo posto si segni questo posto Forte Belvedere non c'è ama nessuno lì sei sicuro lì sei sicuro lì vai a vincere chi ha l'amante se lo segni Forte Belvedere top top Forte Belvedere tra l'altro c'è questa Martina che probabilmente si è follemente innamorata di te perché già prima chiedeva se eri singolo e adesso l'ho dalla tua parlata non so va a sapere potremmo in queste live potrebbero nascere no ma Marti te lo sconsiglio Forte Belvedere ok Forte Belvedere ci vediamo lì stasera Marti ci vediamo Marti ci vediamo al Forte va bene è così allora niente bene ragazzi noi infatti lo chiamano il Forte Cornuto è possibile che lo chiamino così o è non l'avevo mai sentito forse se l'ha inventato lui adesso va a sapere non lo so però io ce ne ho portate diversi quindi non mi hanno mai beccato non mi hanno mai beccato quindi sì no scherzo ovviamente bene vedi in tema di quello che in quello che dicevamo prima no vedi quando vedi un commento così di questo raffo e che devi insomma che serve di più se non serve non serve non serve niente altro grande Nassro e grande Stefano grande Stefano grande Pedro grande Vicky Pedro bellissimo tra l'altro il pubblico la sta toccando piano vogliono che tu inizi a fare delle dirette lui le fa su Instagram comunque le dirette io le faccio su Instagram sì magari seguitemi là e quindi niente ripeto seguitelo Vicky seguitelo su YouTube su Instagram Facebook perché i suoi video come lui stesso da sua filosofi diciamo da sua filosofi non non sono impegnativi nel senso nel giro di tre minuti velocità ed immediatezza e ti lasciano quella voglia di andare a scoprire la sua città che veramente dovrebbero darti forse le chiavi della città un domani chi lo sa staremo a vedere e perdo le chiavi di Asami un giorno se un giorno non è meglio perdere le chiavi è meglio se le tirano loro le chiavi va bene ragazzi un caro saluto a tutti grazie di essere stati con noi noi ci vediamo grazie a tutti ci vediamo domani ti faccio sapere del libro allora assolutamente assolutamente non deve andare adesso che poi chiudo ti saluto per bene dico solo ai ragazzi che ci vediamo domani la live a tema Giappone all'ore 18 il Geo Talk del sabato che vi piace tanto parliamo di Giappone avremo anche degli ospiti faremo vedere le mie fotografie dei miei viaggi vi racconterò dei miei progressi nello studio del giapponese e poi domenica invece ospiti a rotazione dopodiché vi annuncerò la programmazione della prossima settimana che non sarà più quotidiana come in questa settimana perché si entra in fase 2 e anche 48 va in fase 2 ragazzi un bacione da me grazie a tutti e alla prossima ci vediamo domani ciao